Il comune di Salerno si rifà il look per accogliere nel migliore dei modi San Matteo. La cerimonia in programma lunedì alle 10 quando l'Effigie del Santo farà il suo ingresso a Palazzo di Città dove resterà fino alle 18. Un'occasione per sancire la tregua tra Municipio e Curia dopo anni di gelo. E' stato il sindaco Enzo Napoli a verificare personalmente che le operazioni sulla scalinata principale del comune si svolgessero secondo programma, in modo da farsi trovare preparati all'appuntamento. Stiamo mettendo in ordine con una manutenzione straordinaria il nostro scalone d'onore per accogliere degnamente e opportunamente il santo che torna nella casa di tutti i salernitani. E' un atto simbolico importante. Il comune lusingato è orgoglioso di poter accogliere il santo patrono della città nel posto più giusto nel municipio di Salerno, nel comune di Salerno. E quindi sarà una bella giornata simbolicamente alta e anche di festa. Noi ospitiamo, come giusto che sia, con grande orgoglio e deferenza il simbolagro del santo. Si riapre un ragionamento a tutto tondo e che negli anni a venire mi auguro riporti la festa anche nei suoi parametri di festa popolare, di festa civile. Una delle idee dei portatori è quella di legare la festività di San Matteo magari anche come preludio a luci d'artista. Può essere un'idea per gli anni a venire chiaramente? Può essere un'idea, può essere sicuramente un'idea.